Racconto di un boscaiolo che risponde al giudice Sì, sono stato io a trovare quel cadavere Stamattina, come sempre, sono andato alla montagna dietro casa mia per tagliare dei cipressi Allora, nel bosco, fra le montagne ho trovato quel cadavere Dove l'ho trovato? Pesso a poco, alla distanza di 500 metri dalla strada per Yamashima È un posto solitario dove si trovano magri cipressi in mezzo ai bambù Il cadavere, con kimono blu e la mitra di fattura elegante giaceva al supino Ha ricevuto un solo colpo ma si trattava di una ferita al cuore Le foglie di bambù intorno al cadavere sembravano tinte di legno di sappan No, non perdeva più sangue Anche la ferita sembrava già secca e ad essa si era attaccata una mosca cavallina con insistenza, come se non sentisse neanche il mio passo Non c'era la spada o qualcos'altro in giro? No, non c'era niente Solo alla base di un cipresso c'era una corda Poi, sì, oltre alla corda c'era anche un pettine Intorno al cadavere c'erano soltanto queste due cose Però, dal fatto che l'erba e le foglie di bambù erano calpestate dappertutto Immagino che quell'uomo, prima di morire debba aver reagito duramente Come? Non c'era un cavallo? In quel posto i cavalli non riescono ad avvicinarsi Comunque bisogna attraversare un bosco per arrivare al sentiero dove possono passare Racconto di un bonzo itinerante che risponde al giudice Quell'uomo, ora cadavere Certamente l'ho incontrato ieri Ieri forse era mezzogiorno mentre andavo a Yamashima partendo da Sekiyama Quell'uomo veniva a piedi verso Sekiyama insieme con una donna a cavallo Non ho potuto vederla in faccia perché portava un velo Quel poco che ho potuto vedere erano i colori del suo kimono che sembravano autunnali Il cavallo poteva essere storno e la sua criniera era rasata La sua altezza era forse 130 centimetri Essendo un predicatore non me ne intendo molto L'uomo, sì aveva non solo una spada ma anche un arco In particolare mi ricordo ancora molto bene che c'erano 20 frecce da combattimento nella faretra laccata nera Non pensavo affatto che quell'uomo sarebbe finito in questo modo Certo, la sorte di un uomo è imprevedibile Comunque, povero lui Non so cosa dire Racconto di un informatore che risponde al giudice L'uomo che ho arrestato Certamente è il famoso bandito Tayomaru Quando l'ho arrestato forse era condannato a pena minore che veniva messo in libertà per servire come informatore di polizia con potere di arrestare persone sospette Gemmeva dolorosamente sul ponte dalla parte di Avata Di che ora si trattava? Ieri sera non molto tardi Come l'altra volta quando non riuscì a prenderlo aveva lo stesso kimono blu e la spada con delle incisioni Ma ora, come vedete oltre la spada ha anche l'equipaggiamento da arciere Ho capito Lo stesso che aveva l'uomo ora a cadavere Allora deve essere Tayomaru quello che l'ha ucciso Suppongo che l'arco fasciato di cuoio la faretra e la catanera e diciassette frezze con la piuma di falco era tutto quello che quell'uomo aveva con sé Sì aveva anche un cavallo che, come dite era storno con la criniera rasata Era proprio il suo destino cadere da quella bestia Il cavallo stava abbrucando delle piante poco più in là del ponte di pietra lungo la strada trascinando una lunga redine Questo Toyomaru ha un debole per le donne più degli altri ladri della città Nell'autunno dell'anno scorso quando furono trovate uccise sulla montagna che sta dietro la statua di Buddha del tempio Toribe una donna sposata e la sua giovanissima serve che venivano per pregare si diceva che fosse lui il colpevole Se fosse stato lui a uccidere quell'uomo non si sa cosa avrebbe fatto alla donna che stava sul cavallo a storno Non vorrei essere troppo indiscreto ma pregherai di considerare anche questo elemento Racconto di un'anziana che risponde al giudice Sì quel cadavere è l'uomo che mia figlia sposò No egli non era della capitale era un samurai del capoluogo della provincia di Vakasa Si chiamava Tekehiro di Kanazawa e aveva 26 anni No avendo un carattere così gentile non poteva essere oggetto di qualche vendetta Mia figlia il suo nome è Masago e ha 19 anni sebbene ella abbia un carattere forte quanto quello di un uomo non ha mai avuto una relazione con uomini tranne che con Tekehiro la sua piccola faccia ovale è di carnagione scura e all'angolo dell'occhio ha un neo ieri Tekehiro era partito con mia figlia per Vakasa ma che disgrazia finire in questo modo ora però sono veramente in pensiero per mia figlia potrei rassegnarmi per il mio genero ma lei dove si trova vi prego con tutto il cuore di cercare mia figlia fino in capo al mondo quanto odio quel ladro che si chiama Taiomaru non solo mio genero ma anche mia figlia e si mette a piangere confessione di Taiomaru sono stato io a uccidere quell'uomo ma non ho ucciso la donna allora dove è andata non lo so nemmeno io ma aspettate anche se mi torturaste non potrei rispondere quello che non so poi ormai non ho intenzione di nascondere niente ho incontrato quella coppia poco dopo mezzogiorno in quel momento un soffio di vento ha sollevato il velo della donna facendo vedere alla sfuggita il suo viso alla sfuggita appena l'ho visto era già scomparso tanto fugacemente da farmi sembrare di aver visto una santa buddhistica proprio in quell'attimo ho deciso di possedere la donna anche se avessi dovuto uccidere l'uomo no non è difficile come pensate uccidere un uomo per possedere una donna il suo uomo sarà sempre ucciso in qualche modo solo che io uso la spada per ucciderlo e voi usate il potere il denaro o le parole suadenti invece della spada certo così non si vede il sangue né un morto ma lo uccidete lo stesso se dovessimo giudicare chi è il più colpevole moralmente io o voi non sarebbe facile dirlo se però potessi possedere la donna senza uccidere il suo uomo non avrei nulla da dire proprio quella volta avevo deciso di prenderla possibilmente senza uccidere dunque non potevo mettermi in azione sulla strada per Yamashina così ho cercato di fargli andare verso la montagna non è difficile anche questo tipo di manovra quando li ho incontrati per la strada mi sono messo a camminare con loro ho raccontato che in quella montagna che si vedeva davanti a noi c'erano delle rovine dove avevo trovato tanti specchi e tante spade che avevo poi nascosto secretamente nel bosco dietro la montagna e che avrei venduto tutti fino all'ultimo a buon prezzo se qualcuno avesse voluto comprarli a poco a poco l'uomo si era lasciato convincere dal mio racconto poi guardate non è terribile il potere dell'avidità non era passata nemmeno un'ora e io e quella coppia eravamo già sul sentiero della montagna quando siamo arrivati davanti al bosco ho detto loro di venire a vedere il tesoro nascosto là dentro l'uomo spinto ad avidità non poteva non essere d'accordo ma la donna senza nemmeno scendere dal cavallo ha detto che avrebbe aspettato nel punto dove si trovava era abbastanza logico che ella dicesse così poiché il bosco era molto fitto per la verità avevo già previsto questo e sono entrato nel bosco con l'uomo lasciando la donna sola per un po' c'erano solo bambù ma dopo 50 metri è apparsa una macchia di cipressi non c'era nessun posto più adatto per portare a termine il mio piano mentre andavo avanti aprendomi la via tra i rami gli ho mentito di aver nascosto il tesoro sotto un cipresso l'uomo invogliato dalle mie parole si è precipitato verso i magri cipressi che si cominciavano a vedere dove i bambù si facevano più radi e cominciavano i cipressi appena sono arrivato di colpo l'ho aggredito l'uomo aveva una notevole forza adeguata a uno che porta la spada ma essendo sorpreso non ha potuto reagire subito si è trovato legato alla base del tronco di un cipresso la corda grazie al mestiere di rapinatore la tengo sempre pronta al mio fianco perché mi potrebbe capitare in qualunque momento di dover attraversare un fossato una volta che ho riempito la sua bocca con le foglie di bambù per non far uscire la sua voce non rimaneva più nessun'altra complicazione quando ho finito di sistemare l'uomo sono tornato dalla donna dicendo che egli improvvisamente si era sentito male e che ella doveva venire a vederlo inutile dire che anche questa trappola ha funzionato ella si è tolta il cappello con il velo ed è entrata nel bosco lasciandosi condurre per mano da me ma quando ella è arrivata e lo ha visto legato in fondo al cipresso appena lo ha visto sorprendendomi ha sguainato il suo pugnale lucente che teneva in seno non avevo mai visto nessuna donna così audace e in quel momento non fossi stato attento mi avrebbe fatto fuori con un solo colpo al fianco oppure anche cercando di schivare i suoi colpi pazzi avrei potuto essere ferito ma io sono tayomaru e senza trarre la spada con uno sforzo sono riuscito a far cadere il suo pugnale per quanto la donna fosse audace la sua preda l'era sfuggita alla fine ho potuto possederla come avevo desiderato senza uccidere l'uomo così anzi non ne ho avuto nemmeno l'intenzione ma quando ho deciso di fuggire dal bosco lasciando la donna che buttata a terra piangeva disperatamente all'improvvisa ella ha afferrato il mio braccio come una pazza gridando a tratti affannosamente diceva che se doveva portare con sé il suo disonore davanti a due uomini era peggio che morire e quindi chiedeva che uno di noi due morisse è arrivata a esprimere il desiderio di vivere con l'uomo rimasto vivo anche questo lo diceva anzi mando in quell'istante mi è venuta una grande voglia di uccidere l'uomo frenesia grave se vi dico questo mi giudicate certamente più brutale di ogni altro ma è perché non l'avete vista in faccia quei suoi occhi focosi di quel momento quando li ho incontrati ho desiderato sposarla anche a costo di essere colpito dal fulmine sposarla no questo solo ho pensato non era un semplice piacere sessuale come si potrebbe credere se non avessi voluto altro che un piacere sessuale sarei scappato di certo anche prendendola a calci allora sì che quell'uomo non sarebbe finito sotto la mia spada ma quando ho osservato il viso di lei in mezzo al bosco poco luminoso ho deciso di non andare via da quel posto finché non lo avessi ucciso per ucciderlo però non volevo essere vigliacco ho slegato la corda dell'uomo e gli ho ordinato un duello con la spada la corda trovata ai piedi del cipresso era stata dimenticata in questa occasione egli infuriato appena ha sguainato una grossa spada si è lanciato furiosamente contro di me senza nemmeno dire una parola non sarà il caso di dire come è finito il duello la mia spada ha toccato il suo cuore al ventitreesimo assalto ventitreesimo assalto non lo dimenticate prego io lo ammiro ancora ora soltanto per questo fatto sulla terra è l'unico che ha resistito più di venti assalti con me quando è caduto l'uomo mi sono voltato verso la donna tenendo in mano la spada sporca di sangue allora sentite la donna era sparita per trovarla ho cercato tra i cipressi ma nemmeno sulle foglie di bambù non c'era la minima traccia di lei e se tendevo gli orecchi sentivo solo l'agonia nella gola dell'uomo può darsi che appena cominciato il duello si è scappata in mezzo al bosco per chiedere aiuto a qualcuno quando ho pensato questo ho perso la mia calma e in tutta fretta ho rubato all'uomo la spada e l'arco e sono tornato sul sentiero di prima dove si trovava ancora il cavallo della donna che mangiava l'erba in pace raccontare quello che è avvenuto dopo sarebbe superfluo solo una cosa prima di entrare in città mi sono disfatto della sua spada la mia confessione è tutta qui poiché sono consapevole che il mio capo sarà appeso al ramo di un albero di fronte alla prigione sarei lieto se mi condannaste alla massima pena confessione di una donna arrivata al tempio Kiyomitsu l'uomo con un kimono blu scuro una volta che mi ha posseduta ha riso con disprezzo guardando mio marito legato quanto gli sarà dispiaciuto sebbene egli cercasse di liberarsi dalla corda girata tutto intorno al suo corpo e suo movimento non serviva nient'altro che a stringerlo sempre di più impulsivamente mi sono gettata contro di lui no ho solo cercato di gettarmi contro di lui ma in un attimo l'uomo mi ha buttata a terra con i calci proprio in quel momento ho visto negli occhi di mio marito nascere un bagliore atroce atroce quando mi tornano in mente quegli occhi mi viene ancora un brivido mio marito che non riusciva a dire una sola parola ha trasmesso tutto il suo cuore attraverso quegli occhi il bagliore però non era né rabbia né tristezza era una gelida luce che mi disprezzava soltanto abbattuta non dai calci che ho preso dall'uomo ma dalla luce di quegli occhi inconsciamente ho gridato qualcosa e sono svenuta quando mi sono ripresa non c'era più l'uomo dal chimono blu scuro era rimasto solo mio marito legato ai piedi del cipresso appena ho potuto sedermi sulle foglie di bambù ho guardato il suo viso ma il bagliore dei suoi occhi non era cambiato affatto come prima vi si leggeva ancora odio e gelido disprezzo vergogna tristezza rabbia non so come esprimere quello che sentivo dentro di me in quel momento mi sono alzata in piedi malamente e mi sono avvicinata a lui mio caro ormai non posso più vivere con voi sono pronto a morire però però dovete morire anche voi avete visto il mio disonore non vi posso lasciare vivo da solo ve l'ho detto con tutto il mio ardore nonostante ciò egli continuava a fissarmi con disgusto con il cuore che stava per scoppiare ho cercato la spada di mio marito non solo la spada ma anche l'arco che saranno stati presi da quel ladro non si trovavano più nel bosco per fortuna ho trovato sotto i miei piedi almeno il pugnale quando l'ho alzato gli ho ripetuto ora prendo la vostra vita e subito dopo vi seguo quando mio marito ha sentito queste parole finalmente ha mosso le sue labbra poiché la sua bocca era riempita di foglie di bambù non è uscita nessuna voce ma appena ho visto le sue labbra ho capito ugualmente con disprezzo mi ha detto una sola parola uccidimi ho infilato a fondo il pugnale nel suo petto attraverso il suo kimono blu come se stessi sognando forse di nuovo forse di nuovo ho perso conoscenza quando ho guardato intorno mio marito sempre legato non respirava più dal cielo dove i cipressi stendevano i loro rami fra i bambù cadeva un filo di luce del tramonto sulla sua faccia pallida ho slegato la corda che avvolgeva il cadavere trattenendo il pianto poi poi cosa ho fatto non ho più il coraggio di raccontare sì mi è mancata la forza di morire ho tentato varie cose infilarmi il pugnale in gola o buttarmi nel laghetto ai piedi della montagna ma poiché non sono ancora riuscita a morire non dovrei nemmeno vantarmi di questi fatti sono così vile che anche quel benevolo santo buddista che mi protegge forse mi ha abbandonata ora cosa dovrei fare io che ho ucciso mio marito e sono stata posseduta da un bandito cosa io racconto di uno spirito che parla attraverso un medium una volta che quel bandito è riuscito a possedere mia moglie seduto accanto a lei si è messo a confortarla io non potevo parlare ero legato ai piedi del cipresso però tante volte ho cercato di mandarle un segno attraverso i miei occhi non devi ascoltare quello che dice l'uomo non crederlo volevo farle capire più o meno queste cose ma mia moglie seduta sulle foglie di bambù avvilita guardava solo insistentemente le sue ginocchia mi è sembrato che ella stesse ad ascoltarlo con attenzione mi torcevo dalla gelosia il bandito continuava a parlare senza tregua ora che ti sei macchiata sarà difficile andare d'accordo con tuo marito non vuoi diventare mia moglie piuttosto che vivere in discordia con lui poiché mi sei stata cara ho fatto con te una cosa simile persino questo egli si è messo a dire sfacciatamente quando ella lo ha sentito alzato il viso incantata non l'avevo mai vista così bella prima di allora ma la mia bella moglie davanti a me legato come gli ha risposto anche se oramai sono uno che vaga nel ciù ogni volta che mi torna in mente la sua risposta non posso fare a meno di sentire una vampata d'odio e lei ha detto proprio così portatemi dovunque volete la colpa di mia moglie non consisteva soltanto in questo se si trattasse solo di questo non soffrirai tanto come ora in questo buio quando ella stava per andare via dal bosco inebriata lasciandosi tirare la mano dal bandito all'improvviso ha perso il colore del suo viso e mi ha indicato ai piedi del cipresso uccidete quell'uomo finché egli sarà vivo non potrò venire con voi e l'ha gridato ripetutamente come una pazza uccidete quell'uomo ancora adesso questa parola simile a una tempesta mi butta giù lontano in fondo nel buio quando mai è uscita dalla bocca di un essere umano una parola così crudele quando mai abbiamo sentito una parola così maledetta quando mai quando l'ha sentita anche il bandito ha perso il colore del suo viso gridandogli uccidete quell'uomo e l'ha afferrato il suo braccio egli fissando il suo sguardo non ha detto che mi avrebbe ucciso né che mi avrebbe lasciato vivo poi in un baleno ella era sulle foglie di bambù buttata giù con un calcio mentre egli incrociava le sue braccia in silenzio iniziando a guardarmi cosa vuoi fare della donna ucciderla o salvarla basta che tu mi faccia un cenno con il capo la uccido solo per questa frase vorrei perdonare la colpa di quel bandito mentre esitavo un momento ella è scappata rapidamente in fondo al bosco appena dopo aver gridato qualcosa immediatamente egli ha cercato di acchiapparla ma non è riuscito a sfiorarle nemmeno una manica io assistevo a questa scena come a una visione quando ella è scomparsa egli ha preso la spada e l'arco ne ha tagliato solo un punto della corda intorno a me ora tocca a me mi ricordo che ha besbigliato scomparendo dal bosco è calato il silenzio tutto intorno no è rimasto ancora il pianto di qualcuno ho teso gli orecchi mentre slegavo la corda forse era proprio il mio pianto finalmente ho alzato il mio corpo stanco morto dalla base del cipresso sotto i miei piedi luccicava il pugnale lasciato da mia moglie l'ho preso e l'ho infilato nel mio cuore deciso mi veniva su dalla gola un flusso denso ma non sentivo nessun dolore man mano che il cuore perdeva il suo calore aumentava il silenzio intorno che silenzio nemmeno un uccello veniva a cinguettare fino a quel cielo sopra il bosco nascosto dietro la montagna solo le tristi ombre si muovevano dietro i cipressi e i bambù le ombre scomparivano poco a poco non si vedevano più i cipressi e i bambù ero steso là in mezzo al silenzio profondo in quel momento mi si è avvicinato qualcuno trattenendo i suoi passi ho cercato di individuarlo ma intorno a me c'era già il buio qualcuno la sua mano in silenzio mi ha strappato il pugnale dal cuore di nuovo dalla gola mi saliva del sangue poi senza ritorno sono caduto nel buio del ciù si le ostante si sia qui Grazie a tutti